Dopo alcune interlocuzioni avvenute via WhatsApp abbiamo il piacere di trovare qui in via Federico di Svevia Tiziana Giannantoni che ci ha deliziato con alcuni racconti pubblicati su Termolo Online nel suo Circolo Vissamato. Sono ben lieta di essere in questo luogo del cuore, un luogo tanto amato, proprio in questo punto sotto al castello con le spalle il mare, che stasera è un mare quieto, è il trabucco un pochettino più in là e di fronte a me un altro punto bellissimo che è il Monte Castello dove vado tutte le sere, il Borgo Vecchio è il mio luogo del cuore. In questi giorni stavo ripensando come è diventato il mio luogo del cuore. All'inizio è stata una piacevolezza, Termoli era il luogo della vacanza di famiglia con i bambini più piccoli, un mare tranquillo e invece poi è accaduto qualcosa, è come quando incontri una persona e ti rendi conto da subito che c'è un feeling, c'è qualcosa ma poi ha bisogno di frequentarla, di sentire quali sono le affinità o anche a volte delle discordanze da cui può nascere qualcosa. E così è stato per me Termoli, ho cominciato a frequentarla e a un certo punto della mia vita è nato un amore, posso dire proprio un amore, perché qui a Termoli mi sono concessa il tempo delle mie passioni. Le mie passioni sono il camminare, la lettura e poi la scrittura. Ho sempre scritto, però era una scrittura più intima, riservata ad un circolo di persone. Qui a Termoli è come se avessi preso la forza di venire fuori, di uscire allo scoperto. Qui ho scritto il mio primo libro, Bagliori, suggestioni di bellezza. E poi è arrivato il ringraziamento. Dovevo in qualche maniera ringraziare questo luogo, il luogo che è fatto dagli edifici, dalle case, dal mare e dalle persone, tutte le persone che ho incontrato, le persone che abitano qui a Termoli, ma anche quelle che ho incontrato temporaneamente. E così è nato Circolo Vista Mare, una raccolta di racconti che narra di quella che io definisco un'umanità anonima. Sono donne, uomini, ragazze, ragazzi, bambini, bambini di tutti colori. Gente comune che io ho incontrato e da piccoli dettagli, emozioni che ho vissuto, ho cominciato a raccontare. Sono tutti racconti brevi, singoli, ma i racconti sono legati, c'è un filo sottile. E sono io, la narratrice, che tira in qualche maniera questo filo, che apre, con questa immagine della ragazza alla finestra del quadro di Salvatore Dalì, e chiude con una donna dall'abito rosso, che circola tra i vicoli, perché io sono proprio quella donna, quella donna che potresti incontrare tra i vicoli a tutte le ore del giorno. In questo borgo vecchio, la mattina presto, quando c'è il silenzio, quando il cielo è di un'intensità, di un azzurro incredibile. E poi all'ora del tramonto, quando c'è il rosso fuoco. Ogni momento della giornata ha la sua bellezza. E io cerco di raccogliere tutto. E le storie mi arrivano da sole. E le parole seguono, seguono questo flusso del camminare. E raccolgo. Circolo Vista Male è stata la prima raccolta. Ma non ho finito. Quest'anno, da quando sono arrivata qui, già ho scritto altri racconti, perché sono storie vere, personaggi che incontro. E sento proprio la necessità di mettere la parola sulla carta. Devo fermare il tempo. Ecco, la scrittura è per me un doppio valore, una forma quasi di terapia. E dall'altra la possibilità di dilatare il tempo. Circolo Vista Male è questa possibilità. In questo luogo tanto amato. Cosa dobbiamo aspettarci dai futuri affreschi narrativi? Ecco, adesso è quello che definisco il tempo dell'ozio, del senza tempo. Raccolgo, raccolgo. Poi metto a decantare. E poi vediamo quello che succede. Nella testa ho in realtà figure di donne. Nel futuro vedo delle donne. Ma è tutto un itinere. Vediamo quello che accade. intanto raccolgo. Chi è Tiziana Iannantoni per illustrarti come persona ai nostri lettori? Mi definisco una legge storie. La mia prima passione è la lettura. E utilizzo la voce per narrare. Sono una promotrice di lettura ad alta voce. Ho il privilegio di lavorare con i bambini. e leggo loro una meriade di libri. La bellezza della lettura sin dalla primissima infanzia. Quindi, innanzitutto, sono una lettrice. La parola è arrivata dopo. Una parola emozionante. Una parola che non rimane sulla superficie. Con tocchi leggeri, nella sua semplicità, deve andare nella profondità dell'anima. Questo voglio. Scendere in modo tale che possa toccare le corde più emozionanti delle lettrici e dei lettori. Come è cambiato Termoli? Come è cambiato il borgo antico? Dall'inizio delle frequentazioni a oggi? Beh, io l'ho visto diverso. Forse sono io che sono cambiata all'interno del borgo. E' un borgo vivo. Io vedo storie dovunque. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo sono le case. Io guardo le case. Guardo le finestre, che è la luce nelle case degli altri. Guardo le terrazze, i balconi. Negli anni ho visto una vita sempre più pulsante. E mi fa piacere questo. E poi mi fa piacere anche vedere la manifestazione di arti diverse, come la musica. Ho partecipato al festival del jazz. Come il cinema, con il festival Alta Marea. E tutte le proposte che ogni sera sono diverse. Vengo, torno con piacere. E il libro è stata la possibilità di valorizzare questo territorio al di fuori. Tante persone che hanno letto il mio libro si sono incuriosite e hanno detto sulla costa del Molise, beh, vorrei venire a vedere questo borgo, così piccolo ma così ricco di storia. In conclusione, nell'attesa di scoprire quello che la tua fantasia descrittiva porterà a rivivere i nostri luoghi, un saluto ai lettori di Termoli Online. Buona lettura, cari lettrici e cari lettori. Scendete nel profondo. Questo è il mio augurio. È stato un piacere averti con noi. Ti auguriamo un proseguo di vacanza e alla prossima scrittura. Con piacere, grazie.